Amici di MarciGames, bentornati su Golf with your friends. Oggi siamo in una mappa nel quale ci dice di mettere 25 colpi minimi per fare la buca, solo che, non so, mi preoccupa un po', però noi esaudiamo i desideri del creatore della mappa. Ma, prima di iniziare, vi voglio dire che il libro sta tornando realmente in classifica su Amazon e sono super contento di questa cosa. Sapete che sto organizzando la sorpresa con il mio management, solo che sta diventando un po' più grande di quello che pensavamo, quindi potrebbe essere una figata atomica, sia per chi lo prende adesso, sia per chi lo prende dopo. Quindi, mi raccomando, fateci un pensiero, link in descrizione. Ce l'hanno anche Loco e Nico che stanno giocando con noi. Ciao. Oh, sono andato un po' troppo piano. Nico mi ha superato. Raga, ma perché è più 25? Non l'ho capito io. Che mi ha toccato? Tu mi hai toccato. Ero fermo immobile. Vabbè, io posso dar ragione a Nico stavolta? Grazie. Dico, ma qui adesso ti butti giù, dato che l'abbiamo rifatto questo video una volta, ragazzi. È perché Nico ha fatto una cosa hilariosa. C'è cosa hilariosa? Dai, fai lo giusto, Nico. La prima buca la sappiamo, ragazzi, nel cinema. Va bene, non faccio quindi una cosa divertente. No, la cosa divertente non la fa. Nico voleva andare giù nella buca ultima, ma è meglio di no. Comunque, la cosa agghiacciante di questa mappa è che le prime buche sembrano essere sempre... Beh, quello sicuramente è agghiacciante come cosa. È che, c'è di mettere 25, ma sembrano tutti abbastanza semplici queste buche. Ho sbaglio, raga? No? È l'ultima. Ne hai fatta una. Stai tranquillo. Eh, nel chilling, eh. Nel chilling. Nel chilling. Nel chilling. L'ho visto. Raga, io mi sa che ho sbagliato tutto. No, ok. Io credo di aver bugato la mappa, non ho preso il boost, ma va bene lo stesso. Non ho capito nulla. Ciao, sono qua, sono arrivato e penso di poterla fare in due. Eh, ciao. Ma, ok, facciamo così. Uiii. Dico non colpermi? Uiii. Ma chi ti si colpisce? Uiii, fatta in due. Raga, ho sete, devo bere un goccio d'acqua. Mi è venuto qualcosa. Che fortuna. Dissetati. Quante bottigliette hai sulla schivania? In due, quattro, sei, sette, otto. Però sono tutte vuote le altre quasi. Eh, no, no, queste sono cose che tu purtroppo puoi capire. Ah, perché dico è unto, io lasciavo tutto sporco per terra. Io lasciavo sporco. Ma in realtà nessuno lasciava sporco, loco. Semplicemente che io apro le bottigliette ma le bevo solo freddo. Aspetta, Marci, fermati. Marcamimi, io schuess. Eh, vabbè, ci ho provato. Ma comunque, io questa cosa, io l'apprezzo, ragazzi. Perché Nico mi voleva aiutare. Nico mi voleva aiutare? Ma cosa vuoi? Ma è di uno? È l'ultimo, Nico, l'ho visto. Voi avete visto che è l'ultimo? L'ultimo è un cantante unto famoso. Eh, abbiamo visto anche che tu sei unto. Non sono unto, Nico è unto. No, no, sei tu quello unto della famiglia. Per dire che io sono unto, penso che tu non mi abbia mai visto. Sì, esatto. Ti ho visto un botto mito con tecchi volte. Nel chilling l'hai fatta? Nel chilling in due. Io no chilling, mi sa. Io no chili pepper. Così. Bravo! Sei tratto! E qua come si fa? Entri nel naso. Perché è diventato un cane quello? Un cane, un cane. Imitavo Loco. Allora. Loco cosa dice... Ah no. Ah sì, Loco cosa diceva? Che sono ultimo? Ah! Adesso sei primo e io, Marci, siamo ultimi apparecchi. Ah sì, sì, chiaro. Allora che non ho capito nulla. Tu devi andare giù e rimbalzare tante volte. Una volta fatto ciò... Ciambella! Entri nella ciambella. Non so con quale velocità. Porca di quella puzzola. No, è una puzzola. Ciambella? Non ho funzionato a ciambella, ragazzi. Ma io credo che dalla mia angolazione... Hai fatto? No. Credo che dalla mia angolazione non sia fattibile. Mi sposterò. Fatto il motivo, ho fatto... Il quattro! Il quattro! Qua tre ho fatto, per questo interesse. Nico, che è ultimo? Nico, io ho fatto tre punto, tipo leggermente. Tre punto leggermente. È ultimo, Nico! Questo è però tipo un 2.4, comunque. Ma come ti ho fatto? Io ti giuro che ho fatto tre. Se guardi il video, ho fatto tre. Lei mi sa che racconta un po' di castronelli, eh? Eccola qua, la mappa bella. Ma è un po' preferito di Nico. Eccola qua. Già mi sono... No, buco nero no! No, buco nero no! Mi si è bugato. Anche io mi ero bugato. Adesso sono già a tre colpi, io, fate voi. Anch'io, Marci, tranquillo. Nel chilling. Ma tranquillissimo. Nel... Oh! Not bad, not bad. Perché sono responato! Era pronto! Pronto? Cosa vuoi lì? Era pronto. Era dentro, era dentro. Ah, era dentro? Ehi... Ma, a me non ci interessa, sinceramente. Oddio! Ok. Oddio! Eccolo qua! Buonasera! Buonasera! Agghiacciante, Loco, comunque. Agghiacciante. Agghiacciante sarà il nostro nuovo termine, ragazzi. Agghiacciante. Ma dove è, Loco? Ancora non lo vedo. Eh, guardami. Dai. Adesso guardami. Ma... Dove vado? Oh, ma stai guidando una barca, per caso? Ma... Ma penso tu possa provare a buggarla andando dritto, forte. Esatto, così. Bravo, così. Hai voluto la... Hai voluto la bici? Pedala. Adesso pedali. Eccolo che sei rinforato. Oh mio Dio! Quanto sono forte! Eh, sì. Tranquillo, hai 25 colpi da sbagliare. Nel chilling. Trovate... Ragazzi, nei commenti voglio un sacco di aggettivi che vi piacciono. Tipo, agghiacciante. Pericolosamente interessante. Ma dove di pericolosamente interessante? Ce l'hai fatta, bravo, in dieci, dai. Ottimo, Loki. Bravo, Loki. Io non vuoi dire, ma mi son buggato. Sì, sì. Io l'altra volta mi son buggato, ma non detto niente. Io sono andato avanti. Avanti, senza dire niente. Parli sempre, te parli sempre. Allora, qui dove... Non c'è la buca qui. Oh mio Dio, ho capito dove è la buca. Eh, là in fondo la buca. Io non l'ho capita. Andrò a caso. No, io capito. Allora, vai di qua, Nico. Facile, facile. Una volta giunto qui, ti arrangi. Sono a fare i tuoi. Ma è dove c'è il tipo con degli spasmi? Ah, l'ho vista, no. Ma come ci arrivo la scusa? Io sto seguendo la mia strada con molta calma. Molta... Non uscire, non uscire. Capiriccioli! Oh. Perché la mia vita non ha più senso. Perché? Perché hai perso la colpa. Sì, esatto. Beh. Io piano piano amara mi sto mettendo il chilling. In teoria è qua. Quanti colpi siete così, giusto per cronaca? Ah, ok. Ah, non funziona! È brutta questa, loco. Per forza qua. Bellone! Non si fa, Marci. Non si fa. Io l'ho fatto. Hai fatto? Il chilling. Ma hai fatto fortissimo? Nel chilling! 10. Pazzo. No. Fortissimo devi farlo. Ma mi ha riportato qui fortissimo. Ma che peccato! Quanto mi spiace, Nico! Ma la smetti, ma no. Non mi spiace. Non mi spiace. Non mi spiace. I pochi video che sta facendo all'unico sul canale non li farà più. Perché non ci sarà più Nico. Oh, per... No, dai! È un'attistrata! È un'attistrata! Aghiacciante questa cosa! Eh, vabbè, dai! Allora, facciamo così. Aggettivi. Aggettivi. Dispregio. Aggettivi. Tipo aghiacciante. Ah, ci viene proprio già scritto. Aggettivi tipo... Terrificante. Orribile. Tremendo. Terribile. Raccapricciante. Spaventevole. Orripilante. Basta. Ma è una presa in giro, comunque. A me piace tantissimo la capricciante, comunque. È l'ottava volta che mi succede questa cosa! No, vabbè, che sorprende. Cosa devo fare? Vai lì. Ok, vai leggermente. Non andare troppo lontano. Vai più vicino possibile al verde. Esatto. E da qua è il massimo. Guarda che se mi torno indietro di nuovo disinstallo sto gioco. Io ve l'ho fatto. Vedi? Visto unico non era facile. Nel chilling. Hai fatto 21, Nico. No, guarda che... Meno male. Loco, devi stare zitto! Capiterà anche a te questa disgrazia, probabilmente. C'è capitato, tranquillo. Zitto! Dite a te! C'è un gorilla. Ma come disto, gorilla? Eh, lo vedo. Ti assomiglia. Fatto. In quale cosa una persona dovrebbe andare nella buca a destra, che è palesamente fake e ti porta lo spawn? Io ho fatto quattro. Beh, magari qualcuno è stupido e ci va davvero. Io ho fatto quattro, ma mi si era bugato, quindi per me è un tre. Anche a me prima si è bugato, avevi fatto due! Ah, che fatica, ragazzi, mamma mia. Qui cos'è che c'è di brutto? Qualcuno può andare a testare? Non ci vai. Io ho già capito cosa c'è di buco, raga. C'è un... Vabbè, non ve lo dico. Comunque è quella la buca. È praticamente... Ah, c'è un burro! ...in un angolino e... Sì, molto, molti. E dai, io non l'avevo visto! Io non ho capito dove andare. Devi fare il giro, giro giro tondo, casca il mondo. Eh, ho capito. Calma, zio, fratma! Grazie, calmo! Non facessi così? Oddio, me! Ah, ma raga, me è incredibile sta cosa. Cioè, è difficilissimo. Devi andare sul coso per poi scendere dal coso. Me! Ori! Io penso che ve l'ho fatto. Come hai fatto? In sei. Del chilling. Bravo, Nico. Adesso, fermo qua. Oh, signore! Devo andare a rifare il warfighter. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti scrivo su TS. Eh, vabbè. Vai? Esatto. L'avevo già capito, eh. Volevo fare brutalmente più... Loco non ce l'ha fatto. Easy nove colpi! Dai, Loco, devi andare a destra. Non devi andare dritto. Lo so! Ti lo sai? Perché allora... Non lo fai? Dai, Loco! Bravo, Loco! Questo è un albero di Pino. Lo vuole salvare molto bene. No, Pino, questo... Comunque, prima ha detto che eri raccapricciante, eh. No, ma guarda lui, invece. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. E ha 12 colpi. Mi starà capricciando e ce l'ha fatta. 21 colpi. 21 colpi, fatto. GONO! 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 Questo è il karma! GONO! Inizia da capo! GONO! Inizia da capo! Inizia da capo! Inizia da capo! MAMMA, che karma! Oddio! Guarda, nel momento esatto l'ha colpito il karma, eh. Non ci credo, questo è proprio il karma letale! MAMMA GIA! Ma hai visto questo, Carlo? Ci fanno sciopero? Oddio! Ma hai visto questo, Carlo? Non da qui non puoi andare a colpire! Ma hai visto questo? Ma agghiacciante! Orripilante! E adesso da qui non entri in un colpo, perché vai a finire fuori! Mamma mia, comunque... Nella mia vita l'instant camera non l'ho mai vista, ma questa volta letale. Eh, Andrea, mi raccomando, shorts, chiaramente, perché noi ci vogliamo divertire. Ce l'ha fatta, però, dai, ce l'ha fatta. Il 19. Oh, 21 ho fatto, Nico! Comunque non sarò l'ultimo. Ciao, Loco! Ragazzi, scherzo. Loco, potresti direi che scherziamo, perché sennò pensano che... Ma che scherzo? No, io sono serio! Lui lo fa sempre con me! Ecco qua! Orripilante! 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 Che sono questo? Io pagliaccio? No, no, questo è quello che tu definisci, Carlo. È proprio la definizione più reale... No! 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 Ciao, benvenuto! Ciao, ho fatto diretto io. Welcome! Welcome to my new... È successo un casino! Perché Loco è giù? Mi hanno sparato! Mi hanno sparato! Ha lagato, ha lagato! Ha avuto un po' un framework! Sei stato sparato! Mi hanno sparato! No, sei stato sparato! Non ti hanno sparato! Mi hanno sparato! Ma è la stessa! No, è un po' diverso! Dai, però! Dai, però! Eh, 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 eh! Qualcuno può dire, Loco, che si dice che se lo spara a Novidei sei stato sparato? Non ti hanno sparato? Mi hanno sparato! Dai! Loco, no! Mi hanno sparato! No, ti hanno sparato! Se ti hanno sparato vuol dire che con una pistola ti hanno sparato! Ah, può? User, join my channel! Ti hanno sparato con una pistola! No! Non ti hanno sparato! Scusa che stanno litigando, Gio, qua! Mi sa che ho un po' una piatta, ragazzo! No, ma perché stai usando solo lingue italiana? Tu che sei d'aiuto, dici! Allora, tu che almeno c'hai origine in italiano! Ciao, ciao! Allora, io ti dico, no, quando una persona viene sparata è perché... No, Nico, mi ha preso, mi ha sparato addosso! No, no, così no, Loco, ti spiego l'italiano, un secondo. Ma lo so cosa vuol dire! Non è transitivo, quello che dici! Ma il tuo cervello è transitivo, non c'è abbastanza salvo il giovane! Allora, Gio, Gio, ascoltami un attimo! Non ce ne rendono sparate! No, vabbè, questa l'ha un po' troppo, eh! Ma perché non riesciamo a fare sta mappa di... Ok, come non detto. Eh, ma da Marcello, mi stai per spingere giù, eh? Così, giusto... No! No! Karma, Marci! No! Dico, karma! I'm back! Dicevo, Gio, ascoltami un attimo. Se mi hanno sparato, vuol dire che con la pistola qualcuno mi ha pigliato e mi ha sparato, giusto? È quello che intendevo! Giusto? Se invece sono stato sparato, è proprio che io sono stato preso e è stato stato sparato via, giusto? Ah, giusto, ma io intendevo che Nico ho preso una pistola e mi ha sparato addosso! Ma non è vero? È tutto bene! Cioè, questo qui cambia le cose in... In fama, avevo scritto. A me sembra comunque un infame. Cambia le cose in tangenziale? Ma no, cambia le cose a caso, loco, come gli vanno comode! Tutto bene, Nico? No! Canto siete voi? Aaaaa! Io sono a 14, raga! Ma sai che settimana scorsa sei stato impersonificato? Beh, chi? E da un... Un altro... Da un passante! Stai inutile bene, eh! Eh, a quanti colpi siete? 14! Ti voglio sparare! Raga, io ho capito come si fa! Anch'io ho capito che si fa! Ma tu non stai giocando, Joe? Senti, sto vaccinando! Stai vaccinando? Stai vaccinando cosa? Stai vaccinando! Ah, sta cucinando! Ok, cosa cucini? E nove panini? Mi presenta un po' in un altro se è abbondata! Ok, prossima puntata, va bene, ci sto! Posta! Rinunciamo tutti alla buca, appassionatamente, grazie! Vai, rinunciamo tutti, dai! Uno! Appunto, io mi renderò mai! Loco l'ha fatta! Ah! Pensai che non ce l'ha fatta! Ho dovuto! Non so se ci sia giusto, ma ho dovuto! Quando Goda lei tipo pensa ai panini? Che, ciao, Goda! Ciao, da certo! Vabbè, raga, io ho fatto più 25... Anzi, più 40, non so quanch'io! Anche Loco! Ma no, non è 25, allora! Ma tu hai messo di colpi, Marci? Non è... Però non è... La 28! Ragazzi, un po' da mappa, ne sono baggato di nuovo! Goda! Ma meglio, ma meglio! Dai, rinunciamo alla buca, via! Dai, ultime 3, raga, nel chilling! No, dov'è la buca? Eh! La buca è questa cosa qua! Ti ricordo che il par della ultima è... È vero alto! Mucho alto! Quanto? Io meno? Dice no! Quanto tre Big Mac? Non pensi di sapere quanto sia no! Ah, hai ragione, è My Selection! Ah, bravo! Giova tutto bene! Oddio, anche lei! Giova tutto! Io l'ho fatto in tre! Come c***o ho fatto? Ma dove siete andati? Io adesso vi guardo! Io vi guardo, raga! Io sono quello che è più grande di voi! Non ho capito cosa ha fatto! Non ho citato nulla! Vabbè, non è citata, però è una cosa che non avevo visto io! Cosa ho fatto? Scusate, non ho citato nulla, brodero! Non ho citato letteralmente! È l'unico modo per farla, campione! Gli altri sono fake! Vergognati! Eh, non ce l'ho fatto! Raga, gli altri sono fake, le altre due buche che vedete in alto! Vi portano... Vergognati! Vi portano a una scritta GG che non esiste! E qui ho fatto due e mezzo, non lo so, non mi ricordo, però l'ho fatta piano! Esatto! Molto easy! Molto, molto easy! Ma è simile! Dieci colpi! Undici! Comunque c'è l'altra buca dove c'è scritto GG, era fake! Cioè non vi portava nella buca reale! Non so se crederti! Lo testeremo più tardi! C'è un cervo! Ma quello è già entrato? A chi è entrato? Marcello! Ma che cavolo ha fatto Marcello? Non ho fatto niente, raga, io ancora! Ma non vedevo il tuo nickname! E va! Troppa! Facile! Hai già fatto? Mi sa l'ora è facilissima! Chi l'ha fatta? Anche l'ho fatta, raga! In due! Easy! Ma infatti ma chi si crede lui? 3, 5! Quanto loco? In 8? Mi ricordo! 3! Facile! Easy! Le ultime due mancano, raga! Ma stai... Raga, mancano le ultime due! Qui dove bisogna andare? Ah, qua si sta da fare a cosse, guarda! Beh, Massimo! Porca pupazza! Forse non era da fare proprio così! Non ha funzionato! Non mi è andata bene, secondo me! E qua dritto bisogna andare, secondo me! No, che succede? Beh! Cos'è qua se la suonava lì? Oddio, stai per entrare direttamente di intro! Ma cosa... No, non è vero! No, io credo di essermi bugato! Mi sono stato! Che c'è un muro invisibile? Mi ha fatto non far la buca! No, ragazzi, devo fare... Rinuncio alla buca per forza! Io sono stato a Govilla! Mi sto per mettere a piangere! Ma cosa sta succedendo? Boogie! Boogie! Io devo fare per forza così! Scusatemi! È un mezzo shit! No, vabbè, non è proprio shit! Io l'ho fatta in meno di te, quindi va bene! Ah, e se no non andava bene! Eh no! Vabbè, comunque hai trovato un escamotage per uscirne, ci può stare! Lo posso comprendere! Beh, sì, non sono come il loco che mi lamento e basta, ovviamente, sì! Non ho capito io! Loquius, dove sei? No, il cannone! Eh! E guarda qui cosa hai fatto! È dentro il cannone! E sono entrato, me l'ho sparato e... Eh, ma perché lo fai troppo male? Anch'io l'ho fatto... Anch'io ho sbagliato una volta! Perché è stato sparato? No, gli hanno sparato! Gli hanno sparato! Non mi hanno sparato! Meno male! No, qui sei stato sparato! Ti sparavo male! Ma cos'è, loco? Ma mica ci sei, eh! Guarda! Io non capisco... Gli hanno sparato! Io non capisco una cosa di loco! Come fai a essere in... Così sei in terzo superiore, giusto? Quarta! E in quarta! Porca miseria, non sei l'italiano, loco! Tua sorella! Non sei l'italiano! Eh, mia sorella non lo sa l'italiano perché non esiste! Cioè, pensa a te! Appunto! Ignorante! Possiamo calmarci? Sì, veramente! Diventare un po' più forte, loco! Dai! Ma non così! 100! Mira il centro! Bravo! Così non va bene! Così forse va bene! Esatto! Dai! 19 colpi su 20! Si vede che volevi superare Nico, eh, comunque! Ah! Che ridere! Oddio, qua c'è la ruota panoramica, tipo! Bisogna agire tutto intorno alla stanza! Tutto intorno alla stanza! Tutto intorno alla stanza! Tutto intorno alla stanza! Mentre si danza! Sono un cugino di Ophan Weefeck! Di? Di Ophan Weefeck! L'ho con l'ho buggato, chiaramente! Non l'ho buggata! Ma che dovevi beccare le cose, se volevi, eh! Ma guarda, siete già in buca? Io sto beccando, sto cercando di beccare il... Preso! Buca fatto! Chilling! Tutti avete fatto buca in modo poco... No, no! No! Ho preso il coso io, il... Buca in secondaria! No, non scivolare! Loco, ma tu l'hai citata veramente? No, so qualcosa che non funziona! Dovete prendere... Prendi il coso, Nico! Ma io voglio farla in questo modo molto più bello! Eh, il portale devi... Ma dove sei andato? Tipo il portale non è che mi abbia aiutato moltissimo, eh! Ah, bacca! Non è difficile, loco! Dai, su! Dimostra che un pochettino sei bravo a questo gioco! Non troppo, eh! Perché sennò poi ti casi troppo! Eh, io sono a sei colpi! Voi quanto siete, raga? Anch'io sei, ma sto tornando giù! Ho preso il portale! Ophra, mia sorella Ophra! Mia sorella Ophra, c'è un po' più grande! Stressante sto gioco comunque! È stressante! Mamma mia, che rischio! Stanno rotolando! Ok, io sono... Stanno rotolando! Io sono quasi in alto! Non c'è me! Quasi! Non cadere, ti prego, non cadere! Quanti colpi sei? Io sono a dieci! Io no! Dieci! Dieci colpi! Sto a dieci colpi! Boh, la casa... Ah, so caduto! LOL! No, no... Non mi piace! Allora, dopo, stupido, vado a Burger King! Ma vai dove vuoi! Vai a farti sparare! Raga, vai a farti sparare! È la cosa più in picca che abbiamo sentito oggi! C'è un problema, ragazzi! Sono finito nella mappa quella, tipo, bruttissima! E falla, ormai! Che deve fa! Oddio, erano neanche troppo brutti! Potenzialmente l'ho fatto! Dai, Gio! Ma quindi io sono l'unico a aver fatto la buca giusta, mi state detto? Ma io non volevo cittarlo, ragazzi! I goooool! Due meno del par! Che bando! Abba cross! Lokis, dove sei? Un attimo, sto facendo... Sto avendo dei problemi mentali! Scroggio! Ma loco, ma sei lontanissimo, sei! Non sale la palla! Ma Nicol dov'è? Sono entrato in una buca! Ma in quale sei entrato? E sono caduto per errore! Otolando! Ma tu lo vedi, Nicolò? In che cerchio è? Eh, ma aspettalo! In che cerchio è sto scemo? Oh, è alto! È quasi ad altezza arcobaleno! Eccolo qua! Ma deve cadere! Giù! Nel blu! Dipinto di blu! Felice di stare lassù! E Marci ha vinto pesante e mente! Grazie ragazzi! Avevi un prossimo video! Marci è tutto con Bartelligro! Bella! Ciao! Ciao!